Buongiorno eh siamo qui per la nostra il nostro appuntamento settimanale di Economia in Quark sulla stampa punto it io sono Alessandro De Nicola e con me eh come sempre ci sono Veronica De Romanis che salutiamo e Gian Paolo Galli. Allora eh ci contraddistinguiamo per eh commentare come giusto che sia siamo sul sito di un quotidiano per commentare i fatti economici spesso politici della settimana eh ma non ci dimentichiamo che ci sono degli eventi e delle tendenze di lungo periodo che in alcuni casi sono molto preoccupanti in altri possono essere addirittura catastrofici e uno di questi sicuramente riguarda il problema demografico del nostro paese in queste settimane ne avete spesso sentito parlare l'Italia rischia di spopolarsi di avere milioni e milioni di abitanti in meno in in pochi anni e l'altro naturalmente sotto gli occhi di tutti è l'ennesima crisi eh catastrofica dal punto di vista umanitario e molto pericolosa dal punto di vista geopolitico del dell'invasione terroristica di Hamas di Israele e della conseguente rappresaglia da parte di Gerusalemme. Sono due ehm come dire macigni che abbiamo e per il primo sentirei cosa ne pensa Veronica a te. Grazie allora la demografia è eh uno dei temi che questo governo ha messo eh diciamo all'inizio dell'agenda di politica economica e lo vedremo ci 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 stiamo hanno annunciato anche una serie di provvedimenti lo capiremo eh nei prossimi giorni nella legge eh nella legge di bilancio. Ora perché ci dobbiamo occupare della demografia oggi e non domani e neanche dopodomani come abbiamo fatto e negli ultimi anni? Perché il problema già esiste e lo vediamo ogni mese nei dati dell'Istat sulla forza lavoro cioè c'è una riduzione delle persone che possono nel nostro paese produrre ricchezza. Un dato rispetto al eh duemila ventuno nel duemila e ventidue ci sono state meno centotrentatremila persone che possono produrre quindi in età tra diciotto e e sessanta quattro anni. Eh per quanto riguarda le nascite anche qui c'è eh un dato con un segno meno sempre tra il duemila e ventidue e il duemila e ventuno e duemila e ventuno c'è stato un decremento di eh nuovi nati di circa il due per cento. Allora è chiaro che in una situazione come questa eh il problema si pone eh non solo perché eh cioè chi produrrà la ricchezza ma chi sosterrà tutti i nostri eh conti pubblici di cui abbiamo parlato tante volte in questo nostro programma. E quindi il governo molto bene ha fatto a mettere la demografia al centro dell'agenda addirittura l'ha messo dentro un ministero noi sappiamo che c'è un ministero che si chiama ministero della famiglia delle pare opportunità e della demografia. Da una parte molto bene averlo eh aver utilizzato questa parola che non si era non era stato utilizzata fino ad oggi a mio avviso grande errore di averlo messo in quel ministero lì perché eh si può essere una famiglia anche senza figli. Il la parola demografia andava messa in un altro ministero che è quello del lavoro perché qua è sufficiente guardare una recentissima comunicazione della della Commissione Europea al Consiglio in cui proprio si vede c'è c'è un grafico interessante in cui si vede proprio come se se andiamo a vedere ora qui non possiamo proiettare slide ma insomma si vede che lì dove aumenta l'occupazione delle donne aumenta eh il tasso di natalità e quindi si inverte la curva demografica. Quindi se si vuole davvero affrontare il problema della demografia è attraverso eh il lavoro e non certo altri diciamo eh tipi di eh di interventi che sono stati fatti negli anni. Eh la situazione italiana è eh drammatica il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi e scende qui i dati sono molto chiari gli ultimi quelli di Eurostat eh chi lavora le donne che lavorano in Italia eh hanno anche un lavoro di qualità non buono e qui penso al part time involontario eh e poi abbiamo eh tutto ciò si si ripercuote su una spesa pensionista questo ne abbiamo già parlato eh nelle precedenti eh puntate di Economia in Quark ci sarà un picco nei prossimi anni che arriverà addirittura la nostra spesa eh previdenziale quasi al diciotto eh per cento. Allora eh cosa fare? Qui eh una delle delle soluzioni, una delle delle proposte che vediamo circolare in questi giorni eh lo vedremo poi se sarà ehm se sarà effettivamente inclusa nella legge di bilancio perché eh come sappiamo le risorse sono molto limitate è quella di agire sull'assegno unico universale. Allora io qui ho delle perplessità intanto non trovo che sia una buona strategia continuare con degli assegni universale cioè se se noi diciamo che abbiamo un problema di conti pubblici non vedo perché distribuire risorse a tutti cioè distribuiamole a chi ha davvero bisogno cioè dare un assegno a chi oggi ha delle possibilità economiche e li farebbe comunque i figli mi sembra un modo di sperperare risorse ma a parte questo eh l'esperienza ha dimostrato in Italia che non è attraverso i sussidi che si inverte la curva demografica per un motivo molto semplice perché quello è un sussidio temporaneo che può cambiare e sono cambiati l'abbiamo visto nel tempo perché ogni governo vuole mettere la sua bandierina e inserire il proprio di sussidio quindi quello che serve e di nuovo qui basterebbe leggersi il documento della Commissione Europea quello che serve sono degli strumenti che danno stabilità e quindi eh lavoro eh come si fa ad incrementare il lavoro femminile gli interventi sono tanti ora ovviamente non abbiamo il tempo ma vorrei ne incarne due uno è quello delle infrastrutture e qui per esempio il piano nazionale di ripresa e resilienza un passo in avanti lo fa attraverso delle risorse per gli asili nido anche se poi quando andiamo a guardare nei fatti è proprio quel tipo di investimento che il governo sta mettendo un po' da parte dove si riscontrano i maggiori problemi burocratici l'altro intervento e qui chiudo è un intervento a mio avviso eh che spesso viene sottovalutato ma di importanza è cruciale che è quello culturale cioè abbiamo bisogno nel nostro paese di un cambio culturale e qui faccio un esempio eh se noi continuiamo come è stato fatto con il reddito cittadinanza a considerare che chi ha dei figli a carico eh del minore a carico è non occupabile e quindi ha ha diritto a un sussidio e non ad essere accompagnato verso una vita lavorativa e beh noi non usciremo mai da questo inverno demografico perché se eh le donne con i bambini devono stare a casa eh quello che succederà è un circolo vizioso in cui si sta a casa non si lavora non si fanno figli perché non si ha stabilità ecco il percorso deve essere esattamente l'opposto quindi bene le intenzioni del governo ben aver diciamo ripreso dai cassetti la parola demografia poi però gli interventi eh mi sembra che vanno in una direzione che non è a ad oggi eh molto incoraggiante grazie Veronica Benedetto Croce avrebbe detto che aver capito il problema e già averlo risolto a metà eh adesso qui perlomeno gli hanno dato il nome adesso vediamo quando riescono a capirlo e Gianpaolo è inutile fare qualsiasi introduzione a commento su quello che sta succedendo a Gaza e nel sud dell'Israele eh un elemento eh non sottovalutato ma sicuramente meno affrontato visto le le notizie sul fronte militare e politico eh è quello delle conseguenze economiche eh di questa nuova eh guerra che si sta eh sviluppando in Medio Oriente e qui eh uno potrebbe parafrasando Keynes dire le conseguenze economiche di Hamas. Che cosa ci dici? Dunque potenzialmente quello che sta succedendo in Medio Oriente eh oltre ad avere le conseguenze che già stiamo vedendo drammatiche sul piano umanitario può avere conseguenze molto importanti sull'economia mondiale ehm questo può succedere se il conflitto si allarga se entrano in gioco altri giocatori importanti la federazione l'Iran in primo luogo la federazione russa che hanno tutto l'interesse a destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente a mettere in difficoltà Israele ehm però ci sono alcuni fattori che per ora un po' ci tranquillizzano il primo per quello che vale è che fino adesso sui mercati si è visto quasi niente ehm si temeva la grande fuga verso i safe asset eh gli investimenti sicuri però per esempio il dollaro il cambio dollaro euro è variato pochissimo in questi giorni ehm si temeva un aumento del prezzo del petrolio ma anche qui c'è stata una variazione minima dei vari prezzi del petrolio nell'ambito della normale volatilità l'unica cosa un po' rilevante che si è vista è l'aumento del prezzo del gas sul mercato europeo però diciamo il livello a cui è arrivato cinquantadue mi pare euro a megavattora è sostanzialmente lo stesso che c'era per esempio a metà agosto di quest'anno non ad agosto del duemilaventidue quando stava a trecento quindi siamo ancora nell'ambito della come dire più o meno normale volatilità eh forse l'aumento del prezzo del gas può essere legato al fatto che il Qatar è un importante produttore di gas ed è un finanziatore di Hamas qualcuno ha detto ma questo eh qui veniamo alle cose strutturali di fondo eh siamo in una situazione come quella di cinquant anni fa dopo la guerra del Kippur lo shock petrolifero eh la risposta che si tende a dare è no no perché non c'è più la solidarietà araba da allora è successo di tutto fra paesi arabi si sono scannati quanto più uno possa quanto più si possa immaginare e eh non c'è più la forza dell'OPEC ehm e non c'è più in parte perché si sono divisi paesi per ragioni geopolitiche le più diverse ma in parte per una scelta strategica importante e dannatamente impopolare che ha fatto l'amministrazione Obama negli Stati Uniti che è stata quella di ehm incentivare comunque consentire il l'estrazione attraverso il fracking di eh shale oil e shale gas gas e petrolio da scisti eh cosa che da noi è quasi ovunque proibita è che nel giro di pochissimi anni sei sette anni ha reso gli Stati Uniti non solo indipendente dal punto di vista energetico ma addirittura un esportatore netto primo produttore mondiale di esportatore netto per cui se l'OPEC vuole aumentare i prezzi quello che succede è che diventa più conveniente produrre gas in eh o petrolio estrarre gas petrolio in Texas e addirittura adesso in Ohio in Wisconsin e in gran parte degli degli Stati Uniti eh questa è stata una scelta lungimirante fatta apposta per rendere gli Stati Uniti indipendenti dalle vicende del Medio Oriente e eh questa scelta protegge in questo momento anche noi anche noi europei che pure abbiamo fatto l'altra scelta quindi se avessimo fatto se gli Stati Uniti si fossero comportati come noi adesso saremmo in una situazione completamente diversa è un fatto che la possibili diciamo i possibili eh possibili estensioni di questo conflitto eh possono avere effetti eh molto negativi sui prezzi naturalmente dell'energia sull'infrazione sulla eh le sulle scelte degli investitori i quali sono allerta in questo momento pronti a e qui torniamo anche alle vicende nostre a eh disinvestire dai paesi e dalle imprese a più alto rischio più grande col debito più alto con le prospettive più a rischio per andare verso investimenti più sicuri che tipicamente sono quelli in dollari o quelli tedeschi eh quindi eh diciamo l'attenzione che era necessaria prima di questi fatti per i conti pubblici in Italia deve essere come dire accresciuta ulteriormente alla luce di quello che potrebbe succedere in Medio Oriente e io mi fermo qua perché non voglio speculare ulteriormente su eh le drammatiche vicende che stanno eh svolgendosi in queste ore sotto i nostri occhi. Bene bene grazie Gianpaolo grazie Veronica oggi una puntata di riflessione con toni molto più eh preoccupati del solito ehm però eh sarebbe assurdo non non riflettere anche eh guardando al di là della della settimana successiva del mese successivo o dell'anno successivo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e il anche questa puntata va in onda sul sito della stampa punto it del secolo XIX osservatorio conti pubblici e Adam Smith Society. Ci vediamo la settimana prossima vi saluto e come vi salutano Veronica De Romanis e Gianpaolo Galli. Grazie e arrivederci.